come sempre a quest'ora dal nostro Don Antonio Mazzi per il buongiorno del Don. Sono qua, sono qua, sono qua che gli ascolto. Buona giornata. Buongiorno. Buongiorno. È una piccolissima preghiera. Beato chi ha fame e sete di solidarietà. Beato chi ha fame e sete di solidarietà. Molto bella. Grazie caro Don Antonio, ti leggiamo sulla ragione, c'è un tuo pezzo sui giovani. Don, c'è un tuo pezzo sui giovani, sulla ragione oggi, è vero? Sì. Ti leggiamo, eh? Sì. A domani, a domani.